La mostra dedicata alla donna L'idea iniziale era quella di proporre una carrellata di dipinti che parlassero della donna, nella raffigurazione della donna. Poi però, essendo un tema così vasto e così esteso, ho pensato per una sede così piccola di proporre una cosa più particolare e adatta a questo luogo, cioè quella di una dedica alle pitrici dopo. La mostra è accompagnata da un catalogo e questo è un punto, diciamo, di merito, di un'esposizione del genere e ringrazio fin d'ora Luca Sperandio, che è storico dell'arte, il giovane storico dell'arte, mio collega, con cui abbiamo realizzato questo catalogo, in cui non è un catalogo di sole immagini, ma abbiamo fatto anche una ricerca su queste pitrici, sulla loro storia. La mostra inizia, in ordine cronologico, in realtà, con un'opera che è l'unica artista che non è veneziana e non è nemmeno italiana, ma ci permette di introdurci al tema della donna come pitrice dilettante. Ebbene, nell'Ottocento, come sappiamo, la storia dell'arte non è così ricca di donne pitrici, ma questo ovviamente lo sappiamo, come viene indicato nel catalogo, è la conseguenza del ruolo sociale a cui è stata appunto legata la donna e da cui si è potuta emancipare, diciamo, partire dall'Ottocento. E si inizia quindi con una pitrice inglese, Susan Persi, un pezzo davvero particolare e raro, una pitrice inglese che verrà in Italia a dipingere numerose vedute, una pitrice di origini nobili che raffigura un paesaggio, una pitrice che però non lo faceva per mestiere, ma appunto, vivendo nell'agio e nella ricchezza, si permettevano i momenti così di svago e di cui si è di dipingere. Ed ecco allora questo acquerello straordinario in cui, in questo clima romantico, vedete questo personaggio che osserva, che sembra, siamo nel 1802, è una pitrice nata nel Settecento questa, e vedete che questo personaggio osserve e contempla il paesaggio sublime, un'anticipazione quasi del romanticismo di Friedrich, in cui l'uomo di spalle amire e contempla il paesaggio. Si prosegue con due disegni di fanni triagi, anche in questo caso c'entra il giù al tema dell'architrice dilettante, e questi provengono da un dilettante fino a un certo punto, perché hanno una qualità, quando vi avvicinerete, particolarmente elevata. Ma ho trovato quest'album in cui erano, questa donna, siamo intorno alla metà dell'Ottocento, 1850-55, questa donna in un album raccoglieva le sue poesie, le sue lettere d'amore, i suoi disegni. E ecco allora questi disegni di rovina e di gusto, anche questo prettamente romantico, in cui vediamo, appunto, questo gusto ha anche, ma vedete questi alberi che si confondi, che sembrano quasi prendere una forma così gottica nel mio spirito. Si inizia poi la carellata verso quelle che sono le pittrici effettivamente venete. Iniziamo da una pittrice poco conosciuta, che sarà la moglie di un grande pittore, di un grande acquarellista, Raffaele Mainella, Fanny Carlini, e una pittrice che fu tra le prime pittrici diplomate all'Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1878. E vedete questo paesaggio, che è veramente particolarmente originale, perché vediamo la commissione di due elementi. Qui siamo intorno al 1870-1880, non è data alta, ma diciamo, questa è l'indicazione temporale. Vediamo che c'è quel paesaggismo che Cardi, Guglielmo Cardi, realizzava all'epoca. Però c'è anche una citazione della pittura antica. Siamo in un paesaggio di Barenni, in mezzo a questa zona lacustre, e vedete la resa anche della vegetazione di queste canne lacustri particolarmente dettagliate. Però vedete dei personaggi, questo suona un flauto disteso, in mezzo alle barene. Quest'altra donna sembra seduta a contemplare il paesaggio. Sembrano poi le figure che ritroviamo nella pittura dell'Arcadia del 600 e del 700, ad esempio in Zuccarelli, in Giuseppe Zais, che lei cita, essendo pittrice ovviamente veneziana, che ben conosceva questi riferimenti, tra l'altro presenti anche nella collezione dell'Arcadia, e le cita però in un clima appunto di grande modernità, anche di paesaggismo a Veneto dell'Ottocento. Si prosegue con un'opera, ahimè fuori catalogo, ma che ho scoperto pochi giorni fa e ho voluto subito inserire in mostra, l'autoritratto di un'altra pittrice, moglie di un pittore, ahimè più famoso, la moglie di Remigio Butte, che è Adele Zucchetti, stacca pure la schiena tanto Adele Zucchetti, che vedete in questo caso si autoritrae, lei si innamorerà appunto del pittore, era una sua allieva, e qui siamo a metà molto giovani, a vent'anni, si autoritrae, in mano tiene il pennello con la tavolozza, e vediamo chi ci guarda, però, una pittura davvero squisita in questi toghi, che sembra quasi prendere un po' con proseguire quella di Milesi e di altri pittori. Si prosegue da questa parte con un'altra pittrice, in questo caso un disegno a sanguigna, di Lina Rosso. Lina Rosso, grande pittrice veneziana, che diventerà grande amica di Puccini, il quale lo ritrarà più volte, e vedete questo disegno inedito di Sanguigna, del 1932, in cui regala al padre di questa bambina il ritratto della sua figlia, mentre mangia davanti al piatto. Proseguiamo con due opere, che invece sono della pittrice, forse più nota a livello, non solo nazionale, ma pensate internazionale, perché grande fortuna avrà in Inghilterra in America, ossia Emma Ciardi. I temi di Emma Ciardi sono quelli appunto legati a queste visioni di parchi, di giardini, e del gusto neo-settecentista, ossia di una ripresa di quella che era la Venezia del Settecento, di queste figurine vedete in abiti antichi che si muovono all'interno del parco. In questo caso, probabilmente questa veduta, pur non avendo nessuna descrizione all'interno, pur non avendo nessuna descrizione, potrebbe trattarsi del giardino di Boboli, appunto, di Firenze, perché la pittrice ne aveva realizzate una serie, questa sembra proprio rientrare, in cui queste statue al sole in un pomeriggio d'estate sembrano appunto animarsi in queste bellissime siepi di questo parco. Si prosegue con un'altra pittrice totalmente dimenticata, ignorata, di cui non troverete nulla negli ultimi tempi. Una pittrice pensata in atta nel 1892 e che fu tra le fondatrici del premio Mestre, o meglio, no, tra le fondatrici, scusate, tra le prime partecipanti del famoso premio Mestre, nato nel 1958, e che stiamo riportando in auge, tra l'altro, col circolo Veneto, e lo riproponiamo anche quest'anno. Ma questa pittrice, vedete, sembra in qualche modo realizzare le nature morte ispirandosi a Morandi. E lo vedete, tra l'altro, in questa bella natura morte, in questa composizione, in cui queste bottiglie, questi elementi, sono posti anche in un clima così di malinconia, in cui si contrappone questa luce dorata che esce da questa finestra. Una pittrice anche questa, purtroppo poco ricordata, che venne esposa diverse volte in occasioni importanti a Venezia, ma poi, appunto, sparì nel mondo. Un'altra pittrice, Laura Padoa, anche in questo caso una pittrice molto amata da Virgilio Guidi, una pittrice che lavorerà molto a Venezia, una pittrice che io definisco un po' della malinconia, dell'angoscia di vivere, così come indicava anche Montale. E lo vedete in questa sua posa di assoluta, che sembra quasi riprende la melancolia di Dure, questa posa famosa della donna appoggiata, che riprende questo senso di tristezza, di grande drammaticità, che viene ripreso anche in un altro soggetto, che invece è la matura morta che vedete, è sempre della stessa autrice, che sembra però, appunto, riprendere questo senso di assoluta tristezza, in cui questi elementi vengono posti. E questa pianta che vediamo al centro sembra quasi di menarsi, questi rami sembrano andare alla ricerca della luce e quindi anche in questo caso non è una natura morta certo così serena o di grande serenità, ma lo vediamo appunto, lo stesso clima, la stessa funzione che c'è qui da ritroviamo il genere della natura morta. Un'altra pittrice, in questo caso mestrina, che anche in questo caso partecipò a numero uno, anzi fu lei, si fu proprio tra gli organizzatrici del premio mestre, fu Andreina, che è il preguazzo. E lo vedete in questo bell'acquerello di rose, appunto, in cui vediamo la grande padronanza del genere dell'acquerello, con questi fiori, con questa bella resa, appunto, coloristica di questo gioco sui contrasti di luce, vedete, che vengono dal fuoco. Un'altra pittrice particolarmente interessante, nata in Istria nel 1908 e che poi morì a mestre negli anni 70, in questo caso, ahimè, dimenticata, è Yolanda Ballarin. E lo vediamo in un paesaggio così di clima quasi di ispirazione a Gino Rossi, alla grande tradizione del paesaggismo anche così veneto, del Novecento, e poi in una bella tela che raffigura invece la Madonna della Salute di Venezia, in cui vediamo un grande senso di dinamismo, una pittura quasi espressionista, per alcune pennellate così rapide, questo fiume che sembra quasi più un torrente di montagna con una corrente molto forte e comunque una pennellata ecco, molto dinamica, molto rapida. Si prosegue con due opere particolarmente preziose perché si tratta di due affreschi di Valeria Carli, una pittrice che fu la vera pupilla di Saetti e in questo caso la prima opera è un'autentica realità perché si tratta di un ritratto di Felice Carena. La pittrice ritrae Felice Carena all'età di 85 anni e quindi forse uno degli ultimi ritratti di Carena. Carena amava anche molto autoritrarsi ma lo fece fino a una certa età e due anni dopo il pittore sarebbe scomparso però questo senso di presagio della morte lo vediamo già nel suo volto che è un volto triste, un uomo che sta guardando al passato che certo non ha un futuro di grande di arte di continuità e tra l'altro gli anni in cui Carena viene ritratto così dipingeva le famose nature morte con le conchiglie e con degli altri elementi che erano quasi un presagio della morte in questo caso viene visto come una sorta di allegoria e di anticipazione simbolica della morte lo vediamo in questo sguardo di grandissima intensità con la barba con questo gilet così un po' raffazzonato. Nell'altro caso si tratta invece io penso di un autoritratto Valeria Carne ha realizzato molti dipinti di questo genere e vengono definiti anche nei cataloghini che ho trovato insieme al mio collega Luca alla Bevilacqua alla Masa come donna con camice ma in realtà se ci pensiamo bene non può che essere un autoritratto perché se vi girate le vostre spalle vedete l'autoritratto della pittrice e come si fa l'autoritratto? La pittrice che ci guarda con in mano il pennello ma Valeria Carne non usava il pennello realizzava freschi e quindi non poteva chiavere in mano la cazzuola la cazzuola con cui si realizza l'affresco ecco perché questo non può che essere un autoritratto e comunque vedete anche la commissione di piolemento ovviamente la ripresa della tecnica di Saeti ma anche così c'è qualcosa di pizantino di arcaico in questa tipologia di pittura si prosegue poi con un'opera di Valeria Marabini Valeria Rambelli che sposò il pittore Ottone Marabini anche in questo caso una pittrice totalmente dimenticata una grande pittrice perché amava la pittura antica amava la pittura del rinascimento ne emulava le tecniche ecco che questa è un'opera a tempera su tavola così come dipingeva Bellini o Carbaccio e vedete la ripresa di questa donna questa venere l'ho definita questa donna che sembra riprendere un po' Tiziano Palma al Vecchio il grande rinascimento Veneto ma poi anche la pittura del Quattrocento questo invece sembra Piero della Francesca questa scena di banchetto che vedete ecco lei amava questa pittura e lei avrà molto successo parteciperà anche alla Biennale di Venezia ma poi si ritirerà in campagna e vivrà gli ultimi anni della sua vita anzi gran parte della sua esistenza pur essendo morta insomma a una buona età in campagna e in campagna viveva una vita contadina dipingeva ma forse no non gli interessava vendere e comunque il tema della campagna così lo vedete anche in quella piccola tavoletta sempre di Valeria in cui vedete questa donna con la falce che si muove anche in questo caso in una citazione così della pittura antica si prosegue poi invece con un'opera di Ida Barbaligo Ida Barbaligo pittrice che era la figlia di Cadorin e la moglie di Zora Music e quello che vedete in questo caso è una piccola opera del 79 da notare che probabilmente questa è la prima mostra in cui una sua opera viene esposta post morte perché è morta un mese e mezzo fa a gennaio e quindi ha una insomma una età ragguardevole quasi più di 90 anni e farà diverse ricerche nel corso della sua lunga carriera ovviamente ispirate anche a quella che era l'arte di suo marito ha qualcosa di Zora Musica ovviamente anche in questa opera ma uno dei temi che riprende è quello degli inquisitori nel 79 era un po' ossessionata un po' forse come Berlusconi dai magistrati dalle figure dei giudici da questi personaggi davanti a un tavolo che hanno il potere di fare una sentenza di in qualche modo decretare il destino di una persona e tutti questi personaggi vengono raffigurati come dei fantasmi emergono come dei fantasmi da un fondo oscuro bianco un po' spettrale e ne realizzerà tutta una serie anche i banchieri insomma anche una forte critica se vogliamo così alla società la mostra termina invece con Sara Campesan Sara Campesan grande artista mestrina morta nel 2016 quindi anche in tempi recenti penso a un artista lo dico dato che sono anche critico su cui investire nel senso che è un artista che purtroppo non ha avuto la forza di mercato che hanno avuto altri artisti ma devo dire che la sua ricerca è particolarmente interessante e lo vediamo in un'opera e anche anche lei ovviamente ha fatto nella lunga carriera ha avuto più ambiti di ricerca da composizioni in cui la forma geometrica sembra essere una continuo cambio di dinamica ma lo vediamo in questa composizione che sembra quasi un omaggio se vogliamo a Fontana ossia quello di non dipingere di non disegnare ma di aprire la strada ad una terza dimensione che è quello di forare la materia la superficie e lo vediamo in queste linee in questi segmenti in questi raggi appunto che sono costituiti da piccoli buccherellini sulla carta e grande artista anche lei e quindi la mostra termina con un'opera insomma l'unica opera fuori con una ricerca formale particolarmente diciamo che nella storia tra l'800 e l'900 le ricerche erano molto interessanti ma non hanno avuto purtroppo la fortuna che meritavano questi artisti vi ringrazio di presenza sono responsabile dell'associazione arte e cultura veneta vi ringrazio innanzitutto visto la giornata della fruvenza abbastanza importante e anticipiamo Filippo innamorare appunto questa mostra dal titolo Pittrici il nostro caro amico Marco D'Urfin che ne è il curatore che con grande puntualità e pignoleria ha selezionato queste opere veramente una più grande da male che soprattutto sono importanti eventi soprattutto perché si parla di arte si parla di arte femminile però si parla di arte femminile vedendo anche altre cose tant'è vero che qua abbiamo una rassegna di quadri che oltre a parlare di donne parlano anche di paesaggi di lavori e di ritratti maschili quindi diciamo che ci sono 360 gradi di vettura da parte delle donne nei confronti di quello che vedono le cose si fanno se c'è qualcuno che innesca il billetto in termine il processo e quindi noi abbiamo messo a disposizione una piccola struttura della città al centro del cuore di Mestre le cose vedo che hanno un sincero successo di mostro che tante persone si fanno vedere e visitare quindi noi siamo solo per dire grazie e anche quello che bisogna fare perché il sindato Luigi Boniaro ha fuori il proprio principio della società di Mestre fare un grande applauso e un ringraziamento a Marco Dolfini che ormai è diventato punto di riferimento a quella cultura non solamente vittorica nel nostro comune Marco un applauso per il mio amico grazie